E' una persona che dà anche dei giudizi interessanti, anche giusti. Io attualmente penso di me quel che Caldoro ha detto, penso effettivamente che io e il mio partito abbiano dimostrato una certa coerenza. Diciamo che in Caldoro personalmente non ho niente da dire, avrei da dire qualcosa invece su come è messa la regione Campania, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che siamo uno sbandamento generale. E questo è un bel problema, un problema molto serio e credo che bisognerà arrivare, non so in quali tempi diciamo così, ma chiaramente è un cambio. Le leggo una dichiarazione, sicuramente già l'avrà letta, di Antonio Bassolini. In Campania hanno fatto delle liste deboli, ha detto l'ex governatore, segno di una chiusura interna del Partito Democratico. E ha aggiunto, persino il PC dei tempi andati era più aperto verso gli intellettuali esterni e alla società civile. Io, ha detto ancora Bassolino, andrò a votare probabilmente turandovi il naso. Insomma, questa è una valutazione, se non dico che siamo stati perfetti, mi sembra un po' ingenerosa, perché noi intanto come meccanismo siamo passati dentro meccanismi di partecipazione. Poi da fare, questa è una novità, che nel PC non c'era, ma questo posso testimoniare. Dopodiché, certamente, possiamo aver avuto qualche limite qui e là, ma le cose si vedono anche nel confronto, no? No, ecco, io credo che se ci sono critiche da fare sia più facile farle guardandoci attorno, guardando quel che ha combinato il centro-destra o altre forze. Quindi, pur con qualche limite, noi abbiamo espresso una forza di partecipazione grande, abbiamo un rinnovamento significativo. Vorrei ricordare nell'insieme che noi porteremo in Parlamento, questo non può essere sottovalutato, un 40% di presenza femminile. Per chiudere il discorso sulle liste, lei ha detto con le primarie, noi abbiamo in qualche modo sconfitto il Porcellum, è andata così in tutti i territori, anche in Campania. Qualcuno, insomma, faceva un pochettino riferimento al caso di Anna Maria Carloni, che al Senato non ha avuto consenso alle primarie, poi comunque è stata ripescata in qualche maniera al Campania. Noi, insomma, ripeto, noi non abbiamo fatto questo processo senza qualche slabbratura, qualche problema. Lei dice che l'abbiamo solo ferito il Porcellum, non l'abbiamo ammazzato del tutto, e lo ammazzeremo meglio la prossima volta. Intanto lo cambieremo, perché noi il primo giorno che arriviamo lì riproponiamo la nostra legge elettorale. Provo a fare il buono questa volta. C'è stato il caso Cosentino, ovviamente ne abbiamo straparlato fuori per ovvie vicende. Voi avete usato, insomma, un parametro anche forse più severo. Nicola Caputo, qui in Campania, coinvolto nell'indagine su rimborsopoli. Insomma, non c'è nemmeno un rinvio a giudizio, come di solito, insomma, prevedono le vostre regole. Eppure è un caso limite, insomma, l'avete stromesso. Ma, insomma, noi ci siamo affidati, come è noto, abbiamo affidato il nostro codice etico, le nostre regole, alla Commissione di Garanzia e all'impegno che aveva preso il Comitato elettorale. Abbiamo cercato di seguire una linea di rigore. Io dico sempre in battuta, ma è vicino alla verità, che con questi stessi criteri il PDL dovrebbe buttarne fuori una vagonata, che Berlusconi non sarebbe candidabile. Senta, questa è la città, anche la regione, tra le più tartassate per Imo, Tarso, soprattutto RCA Auto. Proprio il Partito Democratico, con un manifesto, ci è andato duro a gambatesa, portando dei dati sulla RCA Auto, emblematici, poi, di una differenza tra sud e nord, di una forbice molto ampia. Cioè, qui si paga tre volte in più rispetto a Milano. Interverrete anche in questo senso? Guardi, io voglio dire una cosa molto semplice. Miracoli ne fa nessuno, ma sono anni che tutti questi sistemi qui, tariffati, in qualche genere, sono lasciati totalmente nella loro completa libertà. Ora, un governo deve guardare le cose, dice che le assicurazioni hanno delle motivazioni, per quel bene andiamo a vedere, no? Andiamo a vedere. Ci sono degli elementi strutturali da rimuovere, da correggere, guardiamoli. C'è qualcuno che si marcia, deve fermarsi. Ci sono, ricordiamo, 1.400 cassi integrati, che soltanto a Milano devono essere riassorbiti ancora. Come se ne esce? Come se ne esce? Se fosse il governo, li chiamo, perché quando so il governo devono venire. E vorrei capire più precisamente quali sono i piani di rientra di questi cassi integrati, davvero come marciano gli investimenti, come sta andando il mercato. Qual è la strategia vera, fra Italia e Stati Uniti, della Fiat? Perché, insomma, stiamo parlando di un settore importantissimo, noi parliamo sempre di Fiat, ma il settore automobilistico ha un indotto, fra l'altro, un sediale.